Aula magna dell'Università di Trieste e Gremita per il tradizionale appuntamento con le giornate dell'orientamento che si svolgono oggi e domani e sono rivolte agli studenti delle quinte classi degli istituti superiori. Mentre all'esterno dell'edificio una ragazza festeggiava il raggiunto traguardo della laurea, centinaia di potenziali futuri aspiranti dottori seguivano la ricca serie di incontri con i docenti, finalizzati a illustrare i corsi attivi presso l'Ateneo, ma anche i possibili sbocchi lavorativi. Quest'anno abbiamo avuto un'affluenza che è stata superiore alle aspettative. Abbiamo qui quasi 10.000 iscrizioni di studenti che vengono dalla regione Friuli-Venezia-Giulia, dal Veneto, ma anche da tante altre regioni d'Italia. Tutti gli studenti hanno la possibilità di ascoltare bene le presentazioni e di interagire anche con i coordinatori di corso che nell'occasione di questo Porte Aperte possono dare loro proprio tutte le informazioni dettagliate non solo sui contenuti del corso ma anche sui test e anche sugli sbocchi professionali che ovviamente questi ragazzi avranno una volta conclusi la laurea triennale e la laurea magistrale. L'offerta didattica dell'Università di Trieste si arricchisce ogni anno di nuove proposte come la laurea triennale in interpretazione e traduzione linguistica rivolta specificamente al mondo giuridico e la laurea magistrale in Data Science rivolta all'industria 4.0. Di conseguenza eventi come l'Open Day sono fondamentali per far conoscere queste ulteriori opportunità di studio. Stiamo vedendo dei grossi risultati dei porti aperte degli anni precedenti. Ad oggi abbiamo già avuto un incremento rispetto all'anno precedente delle iscrizioni del 10% e quindi possiamo dire che siamo soddisfatti. Soprattutto poi adesso ci aspettiamo anche un incremento degli iscritti alle lauree magistrali per le quali abbiamo anche fatto dei porti aperte dedicati e anche quest'anno li faremo nel mese di aprile.